Hanno chiuso un piccolo ospedale o un tribunale vicino a casa vostra? Siete preoccupati per i pesticidi nel cibo che mangiamo e per l'aria che respiriamo? Ecco un motivo in più per andare a votare domenica 26 maggio. Avere cibo di qualità, investire sulla mobilità pulita, dire basta all'austerity sono delle battaglie che dobbiamo combattere e vincere con il voto per cambiare insieme quest'Europa che calpesta i diritti dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle è un programma che mette al primo posto i diritti di chi lavora Con il salario minimo orario difendiamo i lavoratori italiani che non devono guadagnare meno di 9 euro all'ora e le imprese che soffrono la concorrenza sleare di chi sfrutta i lavoratori. Continuare per cambiare significa proseguire i successi del governo contro la precarietà e per il lavoro stabile e ben retribuito. Aiutateci con una donazione a realizzare questo progetto. L'Italia che cambia ha bisogno di voi.